Oggi andiamo a visitare l'arte di Michael Basquat, certo, noi andremo a visitare New York per vedere la sua arte, va bene, andiamo a visitare, ok, divertite? James Michael Basquat, New York 22 dicembre 1960, New York 12 agosto 1988, è stato un writer, writer, epitore statunitese, statunitese. È stato un dei più importanti esponenti del graffitismo americano, riuscendo a portare insieme a King Henry, questo movimento dalle strade metropolitane alle gallerie d'arte. Certo, nel 1978 lascia gli studi al City Air School, ritenendoli inutili. Ed abbandona la casa del padre, guadagnandosi da vivere vendendo delle cartoline da lui decorate. Punto, sarà proprio l'intentativo di vendere una delle sue cartoline della cambierà il corso della sua vita. E entrano in un ristorante a Shoshow, basquata vicina a Henry, Galligan, Gell Douglas & Andy, barocca, di quale compreva alcune delle sue opere. Ciao, nel 1984, insieme a Andy Vavone e a Francesco Clementine. Inizia una serie di collaborazioni di dipinti a sei mani commissionati da Bruno Viskopberger. Punto, a scopo artistico-personale dipinge un altro ciclo di opere insieme al solo barocco, eseguendo oltre cento quadri, nei quali è riconoscibile l'avorto di entrambi e allestendo una mostra comune in cui il manifesto presenta in maniere eloquante i due artisti come protagonisti di un incontro di Bach. Bene, abbiamo visitato Michael Baskrat. Certo, è un grande artista. Wow! E' tanto bello visitare con voi! Certo! Mi pi... Io mi pi... Mi piace tanto America! . . È un grande artista.